Ciao a tutti, bentornati sul canale! Allora, penultima spedizione De Agostini Supercar che ci fa arrivare ai numeri adesso li recupero, eccoli qua allora, 101, 102, 103, 104 e 105 siamo veramente vicini alla fine questa volta questa è la penultima spedizione quindi come di consueto adesso andiamo ad analizzare i fascicoli per vedere cosa dobbiamo fare e poi nel video di domani vedremo il montaggio completo di tutte queste parti per cui procediamo con l'analisi di questi fascicoli allora, numero 101 questa credo in assoluto sia la mia prima opera che supera il numero 100 allora, in questo numero monterai le frecce nella parte posteriore del tuo modello quindi ci danno questi pezzetti che andremo a mettere qui all'interno della carrozzeria vediamo un attimo se ci sono altre fasi sì, ok, vabbè, da entrambe le parti quindi questo numero molto semplice ci fa arrivare a questo step nel numero 102 monterai il vano portaoggetti e altri piccoli pezzi sulla parete sinistra del bagagliaio se vi ricordate, diciamo, questi elementi erano quelli che mancavano all'interno della nostra macchina quindi con grande piacere, diciamo, li andiamo a mettere in modo tale da completare tutto quanto quindi anche la parte interna sarà completata con queste parti che andiamo ad avvitare in questo modo fino ad arrivare, diciamo, a questo elemento che ancora non andiamo a montare all'interno della macchina ma sicuramente lo faremo a breve nel numero 103 fisserai una cintura di sicurezza e uno dei cilindri idraulici del bagagliaio sapete che attualmente il bagagliaio non rimaneva aperto perché chiaramente mancavano i cilindri idraulici quindi, diciamo, vabbè, si prosegue ad arricchire questo pezzo che abbiamo visto nel numero precedente si fissa la cintura e poi si arriva qui, in questa sezione dove andiamo a montare fisicamente questo cilindro per fortuna lavoriamo in diverse fasi senza avere tutta la macchina e mezzo perché, come sapete, l'ingombolo è veramente tanto nel numero 104 assemblerai il pannello di rivestimento posteriore e quello sinistro del bagagliaio del tuo modellino di kit quindi altro pezzo, sempre per l'interno giustamente questa era l'ultima fase che rimaneva da fare e quindi ci forniscono tutti i pezzi per riempire tutti questi spazi qui, purtroppo, dobbiamo riprendere la macchina iniziare a fare un po' di cable management per portare tutti i cavetti nella zona giusta e assicurarli in modo tale da non farli tagliare quando poi ci andiamo a mettere sopra il pezzo quindi questo è il risultato di questa parte montata e andando avanti vediamo che arriviamo a questa fase questa fase dove abbiamo tutta la parte sinistra completa e quindi qui ad esempio c'è scritto per concludere l'assemblaggio fissa tra di loro le due pareti del bagagliaio sinistra e posteriore con un'altra vite quindi andiamo a mettere bloccato questo pezzo qui e come vedete abbiamo i fili che escono fuori in modo tale da poterli collegare poi al gruppo luci che andrà fissato dopo nel numero 105 monterai il cilindro idraulico e altri piccoli pezzi sulla parete destra del bagagliaio del tuo modellino quindi diciamo la stessa fase che abbiamo fatto che abbiamo visto poco fa è chiaramente speculare ci fanno montare tutti i vari dettagli fino ad arrivare a questo risultato che però non ci fanno montare in questo numero per cui dovremo aspettare il mese prossimo quando termineremo completamente tutto per assemblare anche questa parte vabbè non farci montare questa parte finale è veramente una cattiveria perché chiaramente tutti avremmo voluto vedere il bagagliaio posteriore che rimaneva aperto da solo ma dovremmo aspettare il mese prossimo per poterlo fissare ovviamente il mese prossimo termineremo anche completamente la macchina perché appunto arriveranno gli ultimi 5 numeri che ci porteranno fino al numero 110 e se tutto va bene tecnicamente questa è la prima cosa che monto senza fare di base nessuna modifica se ricordo bene a parte vabbè il floccaggio all'interno della pedana fondamentalmente di altre cose non ho toccato nulla anche a livello elettronico nonostante mi siano venute in mente diverse cose alla fine ho ragionato sul fatto che non ne vale la pena perché tanto una volta che è completata e uno ci gioca un pochino è difficile che poi vai a vedere dettagli particolarmente spinti all'interno quindi veramente non ne valeva la pena forse l'unica cosa che poteva avere senso era rendere luminose le frecce laterali ma anche in quel caso insomma vabbè ho lasciato perdere non escludo magari in futuro di poterlo fare ma in generale per ora non ho fatto modifiche detto ciò vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuna delle prossime fasi di montaggio di kit ma in generale nessun altro video che porto sul canale ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao